Ferragosto alternativo al lago Lavena, uno degli specchi d'acqua tra i più belli e incontaminati di tutto il grande acrocorum montuoso della Damello. La zona è data in gestione all'associazione pescatori e cacciatori di Bienno, borgo di Prestine, che curano con maniacale attenzione ogni particolare, partendo dall'acqua che sembra davvero essere tra la più bella dei laghetti alpini. Qui i pescatori procedono periodicamente ad immetterne nel laghetto le specie ittiche più idonee. L'acqua è ancora in ottime condizioni, anche il lago, quindi il pesce si trova in perfette condizioni ambientali, a differenza della zona del Fondovalle dove magari ci sono state delle situazioni un pochettino più critiche, come anche all'incubatoio che gestiamo con le altre associazioni. Intorno al lago qua e là si trovano coltivazioni spontanee di alghe che non devono trarre l'inganno perché non sono segnali di sofferenza, anzi sono una difesa biologicamente attiva dalla purezza dell'acqua ad alta quota. Le condizioni sono ottime perché, come si può vedere sulla zona perimetrale, cresce abbondantemente un'alga che contribuisce alla pulizia del lago, quindi le deiezioni dei pesci vengono riassorbite dall'effetto filtro di queste alghe. È chiaro che nei punti dove si sta pescando crea qualche difficoltà al pescatore, però fa parte anche dell'ambiente naturale in alta quota e quindi cerchiamo di far convivere le due cose, anche perché ripeto le alghe tengono pulito il lago e quindi questo è un aspetto molto importante. All'oasi di Lavena si accede a piedi lasciando l'auto nel parcheggio sulla strada del Dasdana e dai frequentatori vengono garantiti servizi semplici, molto graditi. C'è comunque gente, c'è affluenza in questi giorni, soprattutto di agosto, circolano un po' di persone anche in montagna, anche solo per trovare refrigerio alle passate giornate di caldo e quindi ecco che anche qui ci sono persone che trovano un po' di svago. Immettiamo all'inizio stagione pesci come trote fario, trote iridee e salmerini, quindi anche pesce di qualità. Chiaramente pesce pronta pesca per agevolare i pescatori perché diversamente non si potrebbe pretendere che qui i pesci crescano e raggiungano dimensioni accettabili per la pesca in tempi rapidi. E poi offriamo un piccolo servizio ristoro. E a proposito di piccolo ristoro vi si trovano i migliori prodotti della tradizione di questa parte di montagna conditi da un'accoglienza semplice, affabile e sincera. Un buon posto dove respirare ancora un'aria genuina da ogni punto di vista.